Altomonte 3, Rangers 2, siamo con Vincenzo Gallo, la capolista è stata sconfitta dall'Altomonte che ha fatto una bellissima partita ma voi nel secondo tempo in pochi minuti avete ribaltato il punteggio, perdevate 1-0, poi siete passati in vantaggio sul 2-1 è stata una bellissima partita di fronte ad una bella cornice di pubblico, peccato per voi per il gol preso proprio all'ultimo secondo di recupero però secondo me ci sono state ottime indicazioni, una squadra viva, in salute che ha dimostrato di saper giocare a calcio Sicuramente, noi sapevamo che venire ad Altomonte non sarebbe stato facile, sicuramente è stata una gara bellissima, combattuta dispiace di averla persa così nel modo di recupero, però va bene così, i Rangers entrano avanti per la loro strada Sicuramente un primo tempo non all'altezza, ma un secondo tempo stupendo, stupendo dopo avevamo addirittura ribaltato il risultato poi sappiamo come prendere un gol così, ma non vorrei dire che sia stato un errore dell'Albert però fischiare prima e poi l'avversario fa il gol, significa che hai fischiato qualcosa nell'aria, non lo so, una polizione qualcosa invece no, dà un gol e questo è da vedere, però diciamo che è stata una grande partita, un grande spettacolo, un grande pubblico dispiace perdere in questo modo, ma i Rangers vanno avanti per la loro strada e sapevamo che dove vanno i Rangers c'è battaglia, ci aspettano, ma sempre cristicamente parlando e noi ce la metteremo tutta sicuramente Domenica, anzi sabato, si torna in campo, se si torna con il piglio del primo tempo si può andare in difficoltà contro chiunque se si gioca come nel secondo tempo qui ad Altomonte, secondo me si può ottenere non dico facilmente, ma quasi una vittoria, a prescindere dall'avversario se i Rangers si giocano come nel secondo tempo credo che non ci sia per nessuno bisogna fargli capire questo e dimenticare subito questa sconfitta questa sconfitta che sicuramente il pareggio era il risultato più utile e più giusto, vedendo come ha giocato l'Altomonte al primo tempo e come hanno giocato i Rangers nel secondo tempo poi se l'arbitro sbaglia, purtroppo tutti possono sbagliare va bene così, ma accettando da ricriminare grazie 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 grazie